musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovissimo velocissimo video sono xyuder e ragazzi tanti auguri a me tanti auguri a me oggi ragazzi l'oxyuderone diventa un anno più vecchio come vi avevo annunciato ieri ragazzi il canale oggi ovviamente sarà a festa e per festa intendo che alcuni di voi potranno essere vincitori di un bel contest anzi di tre contest che farò sul canale in collaborazione con il mio amico pro capuano ragazzi anche lui ovviamente ha un canale youtube dedicato a fortnite oggi ragazzi questa sera faremo tre contest da 10 euro per un totale di 30 euro 30 un po come i miei anni più uno in modo che tre di voi non c'è bisogno di raggiungere nessun limite di iscritti per oggi li faremo comunque ragazzi metterò comunque il mio contest personale quindi potrebbero essere quattro addirittura i contest dipende da voi ma vi ricordo una cosa per poter partecipare al contest dovrete commentare qui sotto con la parola tanti auguri vecchio ma attenzione so che molti mi diranno ma non posso commentare xyuder vero i commenti ragazzi verranno resi verranno abilitati oggi questa sera alle 19.30 quindi quando avvieremo la live e l'estrazione la faremo alle ore 22 in modo da evitare durante l'estrazione di estrarre ragazzi che magari hanno commentato durante la mattina e non sono in live quindi ragazzi un salto anche nel canale del capuano pro mi raccomando vi aspetto questa sera dalle 19.30 ciao